Sulla rutta di Atlantide, il leggendario Nautilus è stato attaccato da un gigantesco Kraken che ha sterminato l'intero equipaggio. Sei scampato apparentemente solo tu al micidiale attacco del mostro marino. A poco a poco riprendi i sensi e in breve tempo realizzi che devi fare di tutto per accedere alla sala macchina e riattivare il motore del sommergibile. Ma devi fare in fretta. Il mostro marino è ancora in acqua e da un momento all'altro potrebbe sferrare l'ultimo definitivo attacco riducendo te e quello che rimane nel sottomarino immagine per pesci.